Musica Assolutamente contentissima di questa serata, per noi musicisti poi è sempre un'emozione, tutti i concerti e speriamo di emozionare anche il pubblico. Per noi suonare è trasmettere passione, quindi questa sera abbiamo trasmesso tantissima passione e abbiamo proprio sentito caldissimo il pubblico, come è sempre Gaeta. E' comunque sempre emozionante esibirsi davanti ad altri ragazzi, soprattutto davanti a un pubblico giovane e quindi è stato molto eccitante e molto bello. Questa sera penso che abbiamo rappresentato il liceo musicale Alessandrino in maniera dignitosa, più che dignitosa. Grazie 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 Grazie